Bene, buonasera, volevo solo esplorare un po' e farvi conoscere quelle che sono i mondi virtuali che sono degli utilizzati già da decenni in realtà ho visto che già dal 1994 in realtà si usano questi mondi virtuali per insegnare ad esempio c'è questo Active Worlds che è nato nel 1994 e che permette di fare un po' quello che faceva Second Life in maniera un pochino più grezzo forse e anche altre cose che vi spiego adesso e che è stato utilizzato ampiamente in passato anche per scopi educational perché la cosa interessante dei mondi virtuali dei virtual environments è che offrono delle soluzioni a costo anche abbastanza contenuto anche quando si parla di soluzioni diciamo a pagamento che sono molto usatissime usate a livello mondiale nell'università, nelle scuole in particolare perché sono interessanti perché permettono di promuovere un pensiero di livello più alto quindi di poter fare un po' quello che viene viene suggerito da diversi modelli educational quindi sviluppare la creatività la comunicazione, la collaborazione e il pensiero critico quindi sono degli ottimi strumenti per fare questo lo fanno attraverso dei meccanismi di creatività in cui si può costruire e creare insieme degli ambienti o degli oggetti o delle strutture o addirittura anche dei gruppi sociali si basano sulla possibilità dei partecipanti di esprimersi in maniera completa molto estesa quindi a partire dall'avatar che indossano fino a scegliersi anche i vestiti insomma quindi gli strumenti i capelli eccetera e sostanzialmente realizzano una collaborazione reale ed effettiva quindi a livello educational sono degli strumenti molto interessanti questo l'ho scelto così in maniera quasi casuale è uno dei tanti documenti che esprime diciamo l'importanza dei virtual worlds nell'educazione e tra l'altro usano come riferimenti Minecraft Education Edition che è a pagamento di proprietà della Microsoft di cui esiste una versione open source che conoscete che è Mindtest su cui abbiamo anche studiato e lavorato e poi abbiamo invece viene esplorato e viene apprezzato molto la comunità educational mondiale diciamo soluzioni basate su questa è una soluzione open source open sim Kitely che derivano da Second Life su queste abbiamo lavorato abbiamo lavorato in Italia con Edu3D che è questa organizzazione di volontari che si occupano un po' di stimolare l'uso dei mondi virtuali nel mondo educativo e abbiamo iniziato partendo da Second Life ma in realtà siamo arrivati a OpenSim quasi subito ma ultimamente abbiamo poi esplorato altre soluzioni cercando non tanto di evitare ma di dare priorità alle soluzioni open source che ce ne sono e sono di alto livello anche se sono un pochino più complicate quindi abbiamo esplorato anche un sistema che si chiama Mozilla Hubs molto famoso che permette di usare i mondi virtuali anche con i visori in realtà virtuali VR è un XR di Mozilla Hubs quindi completamente open source e varie varianti insomma di Second Life fra cui una in particolare che è Vircadia che adesso vi faccio vedere brevemente quindi Second Life la conoscete questa struttura diciamo che però mal si è adatta al mondo educational perché è adatto solo per ragazzi di 17 anni in su è comunque molto costosa è parecchio costosa per le scuole ed è comunque software proprietario invece è Open Simulator che ha avuto un discreto successo fra gli insegnanti non si riesce però a utilizzarla come i visori in realtà virtuali e come vedete anche dal sito è abbastanza diciamo come tutti i siti open source è abbastanza minimalistico quindi è relativamente difficile insomma da usare ma comunque ci abbiamo impegnato e continuiamo a impegnarci molto su Open Simulator quindi con delle grid simili a Second Life dove ci sono realtà educational su Hubs abbiamo lavorato anche parecchio il limite di Hubs oltre a essere un po' difficile da installare localmente quindi è open source ma è un po' complicato da installare e che non consente di fare quello che nei mondi virtuali si fa spessissimo che è la programmazione cioè il coding reale nei mondi virtuali quindi la Hubs va benissimo per fare degli ambienti più o meno fissi dove si disegna insieme delle ambientazioni 3D si fanno delle interazioni minimali con gli oggetti ma queste interazioni sono limitate e non si possono scriptare non si possono fare delle cose complicate come ad esempio delle cacce al tesoro o comunque una gestione interattiva in un'attività museale un percorso guidato un gioco a premi o una quest che semplicemente diventa molto difficile da realizzare queste cose si possono invece fare in Open Simulator in realtà adesso c'è una quantità incredibile di strumenti che permettono di lavorare praticamente nei mondi virtuali in maniera cooperativa e a volte anche educational ad esempio c'è Altspace VR che è un po' un antesignano di quello che sarà Horizon di Facebook che però sono tutti i software chiusi e quindi sì li abbiamo anche esplorati ma hanno una valenza molto relativa nell'education e però cosa abbiamo? abbiamo come al solito il nostro il nostro Minecraft di cui abbiamo poi la versione Open Source Mind Test su cui abbiamo anche lavorato ho detto e soprattutto ecco una cosa interessante è che abbiamo il Vircadia allora Vircadia che è questo questo software vedete che hanno cercato di renderlo un pochino accattivante ma è soprattutto un qualche cosa di Open Source e che ha delle caratteristiche abbastanza complesse nel senso che intanto consente di creare un intero ecosistema completamente Open Source e completamente nel caso se è necessario localizzato nella scuola o nella vostra applicazione con server completamente vostri ed è completo mancano in effetti alcune cose ad esempio manca la gestione dei gruppi di lavoro insomma alcune sofisticazioni e autenticazioni che esistevano nella versione precedente perché questo Vircadia in realtà essendo Open Source nasce partendo da iFidelity che era un mondo sempre Open Source ma fatto dal creatore di Second Life che l'aveva fatto in maniera abbastanza completa quindi c'erano tantissime cose però le cose quando ha deciso di smettere di lavorare su questo ambiente si sono perse tutte le cose che erano software chiuso e sono rimaste le parti aperte che sono quelle che illustra Vircadia quindi Vircadia praticamente quando si entra in Vircadia sostanzialmente si entra in un mondo si sceglie un avatar e gira tra parentesi sulle principali piattaforme quindi che sono Mac Windows e Linux su Windows è particolarmente semplice l'installazione su Linux l'installazione del server ha qualche piccola complessità che avevo anche affrontato ma nel complesso diciamo consente una creazione questo qui è un ambiente che abbiamo creato con Edu3D facciamo spesso dei corsi in cui insegniamo come navigare all'interno di queste piattaforme vedete che è possibile crearsi un ambiente adesso qui sono sono le mascherelle in cui si crea si creano tutti i vari oggetti si possono creare cose anche molto sofisticate ma soprattutto la cosa interessante è che si possono inserire anche delle programmazioni in JavaScript un JavaScript un po' dedicato per il 3D un JavaScript relativamente complicato ma che può fare tutto un po' di tutto in realtà c'è anche un'altra alternativa non open source a questi mondi che è appunto descritta abbiamo parlato prima di VRChat mi sembra VRChat è un mondo che si basa su VRChat che è un mondo diciamo proprietario questo vedete che però mette la costruzione di mondi scritti in Unity in Unity che non è un prodotto open source ma che consente la programmazione di sistemi anche abbastanza quindi escape room o situazioni realistiche tipo quello che potete intuire da qua che permettono praticamente di fare tante cose giochi e tutto di più insomma in Vircadia abbiamo questi corsi che noi stiamo costruendo che facciamo praticamente ogni anno in cui insegniamo alle persone quindi vediamo un po' in ah beh questo è un Active Worlds è un qualche cosa che invece c'era dal 1994 Active Worlds che ho fatto vedere prima ma Vircadia praticamente come funziona cioè funziona con un server locale che può essere costruito anche sulla vostra macchina e quando si entra praticamente si si entra in una diciamo in un mondo noi le chiamiamo sim che sono altre specie di isole e queste isole sono sono creabili su di server linux tipicamente e quindi ho fatto anche proprio dei corsi in cui si può strutturare e si possono creare queste situazioni su server linux vedete che abbiamo giusto per dire vedete questo qui è un ambiente di di scuola che mi hanno fatto edu3d in cui insegniamo le persone a creare e fare tante cose realistiche vedete che è un po' una sandbox sono questi isoloni che mi hanno dato la possibilità a ogni insegnante che partecipa ai corsi di avere un'isola propria e di potersi costruire e fare le proprie cose non so se vedete che si può praticamente volare e si può praticamente viaggiare praticamente un po' come si fa in tutti i mondi virtuali si possono costruire personaggi con animazione abbiamo costruito interi interi corsi dove spiegavamo come costruire questi personaggi usando software open source come blender e anche no ad esempio ci sono alcuni programmi che non sono open source ma che offrono interessanti diciamo possibilità didattiche consentono avatar e via discorrendo quindi la navigazione funziona praticamente navigando con explore e specificando dove si vuole andare quindi vedete qui c'è un directory dove si può andare e quindi questo crea sostanzialmente un metaverso ecco un metaverso molto di moda noi abbiamo in uno dei nostri corsi abbiamo fatto un museo delle cere in cui adesso andiamo quindi entrando in questo vedete che mi teleporta in una parte di questo mondo in cui sono presenti un adesso appaiono lentamente diciamo tutta una serie di manichini di cui alcuni sono animati alcuni no adesso vedete che man mano appaiono ci sono dei pannelli che descrivono insomma anche delle sono specie di finestre sul web ma soprattutto ci sono come vedete adesso stanno apparendo man mano ci sono questi manichini che possono dare un'idea insomma anche in situazioni educational storiche di come era una realtà storica particolare in passato e quindi di dare la possibilità agli studenti di di sperimentare dal vero come si troverebbero in una realtà storica avendo cioè essendo proprio essendo dentro perché uno può entrare sia così come vedete col pc ma anche con i visori in realtà virtuale quindi vivere queste realtà proprio dal di dentro non so se notate che tutto questo è interessante ci sono questi manichini che sono adesso qui in questo caso non parlano ancora perché la parte di script la stiamo facendo adesso ma avremmo la possibilità di poter interagire con i vari con tutte le varie cose e notate anche la capacità che si ha di poter ricostruire una specie di partenone vedete qui siamo in cima a un isolotto e su questo isolotto è stata costruita praticamente questa realtà in questi mondi si possono entrare in cioè si possono entrare dei gruppi di n persone in linea teorica si può parlare anche di 20-30 persone quindi tipicamente il gruppo tipo una classe o comunque un gruppo coeso di persone perché fa un corso a suo tempo quando iFidelity funzionava aveva fatto degli esperimenti in cui era riuscito a far entrare fino a 500-600 persone contemporaneamente e contemporaneamente attive nel mondo però necessitavo di una quantità di server per poterlo far funzionare ma per gli scopi didattici educational di cui ci occupiamo noi è possibile usare un server Linux anche solo con pochi gigabyte di RAM per pochi intendo anche 4 gigabyte di RAM e un paio di CPU insomma c'è qualcosa che costa che può costare attorno ai 5-10 euro al mese e si possono costruire degli ambienti di questo tipo con spese diciamo che rispetto ad esempio una spesa equivalente fatta su Second Life si parla di almeno 300-400 euro al mese invece qui stiamo parlando di spese attorno ai 5-10 euro al mese che sono proprio il costo del ferro insomma dell'hardware e un po' poi la difficoltà insomma di installare questo software che viene fatto con l'aiuto e noi diamo la collaborazione alle persone sia per installare il server ma anche soprattutto per riuscire a imparare a caricarci i contenuti e noi cerchiamo di stimolare le persone a costruirsi i contenuti da soli con software possibilmente open source ad esempio molti di questi manichini sono costruiti con make human make human e eventualmente alcuni passaggi su blender quindi con software tipicamente open source quindi direi che questa carrellata su Vircadia la finisco qui spero di essere stato troppo lungo e spero di avervi dato un'idea insomma iniziale di che cosa significa di cosa significa appunto lavorare e progettare delle situazioni diciamo e insegnare insomma agli insegnanti e anche ai loro allievi a costruire e utilizzare i mondi virtuali non soltanto per per distruggersi insomma per fare delle arene di combattimento come come spesso fanno molti ragazzini in minecraft ma di poterli usare proprio per capire meglio per vivere integralmente delle avventure o comunque dei periodi storici e acquisirli in maniera in maniera molto più pregnante credo che sia un po' tutto buonasera grazie a tutti